Grandi movimenti politici in vista delle elezioni comunali a Comiso. In casa PD c'è fermento, ma si sta evidenziando una spaccatura interna al partito. L'ex parlamentare Pippo Di Giacomo ha inviato ai propri conoscenti una comunicazione attraverso cui ha annunciato la sua candidatura a sindaco della città casmenea. Poco più tardi, il segretario comunale dell'APD, Comisano Biagio Taranto, ha invece annunciato che il partito propone la ricandidatura di Filippo Spataro, attuale sindaco. Ecco il messaggio di Di Giacomo. Sto pensando di scendere in campo per la mia città, di candidarmi a sindaco di Comiso. Comiso, un mio grande amore. Vediamo, ho informato di ciò il segretario comunale, provinciale e regionale del mio partito, mettendomi a disposizione per ogni adempimento. Ora ascoltiamo la città. Gli obiettivi? Grandi progetti, lavoro, cultura, bellezza, quelle cose che hanno segnato un momento importante per la storia di Comiso, momento che deve ritornare. L'alba sta per cominciare. Buon fine settimana. Non tarda ad arrivare una nota del segretario PD di Comiso Taranto. Una partecipatissima e qualificata riunione del direttivo del PD di Comiso si è svolta presso la sezione Piola Torre. All'ordine del giorno, gli obiettivi raggiunti dall'amministrazione uscente e le valutazioni tese a determinare il futuro percorso che porterà alle prossime consultazioni elettorali comunali. In un clima di grande passione e calore umano, alla presenza del coordinatore provinciale del PD, il sindaco di Gerratana Bartolo Giacquinta, del capogruppo Gaetano Scollo e dei consiglieri comunali del PD, dei consiglieri di circoscrizione di Pedalino e della responsabile del gruppo donne Giussi Brullo e anche di tanti iscritti, dopo l'introduzione del sottoscritto segretario cittadino del PD, che ha riportato il giudizio estremamente positivo della segreteria comunale sull'attività amministrativa dell'Aggiunta Spataro. Lo stesso, a nome dell'esecutivo cittadino del PD, ha proposto la ricandidatura del sindaco uscente. Dalla fuoriuscita del distesto finanziario alle politiche legate allo smaltimento rifiuti, passando da iniziative in campo culturale, hanno reso questa amministrazione capace e attiva nel governo della città. Alla luce dei risultati ottenuti che hanno portato fuori dalla tunnel la nostra comunità, il direttivo ha approvato all'unanimità e con grande entusiasmo la ricandidatura di Filippo Spataro a sindaco per l'amministrativa 2018, dando a me la segreteria cittadina e le via libera per incontrare a breve i rappresentanti della coalizione di governo per sviluppare insieme un percorso aperto, partecipato e condiviso sulla proposta della PD e sulle nuove linee programmatiche. Il direttivo ha altresì approvato il simbolo da utilizzare per la lista che vede inserito nel simbolo stesso il nome del candidato Spataro. A conclusione, l'intervento di Filippo Spataro che commossa ha ringraziato tutti i presenti, assicurando la prosecuzione di un profilo aperto al dialogo, partecipativo, contemporaneo e condiviso, incentrato sull'eleganza, l'umiltà e la disponibilità. Chi cerca polemiche troverà proposta, spiegato Spataro. Chi offre arroganza troverà umiltà. Chi lancia un'idea autoritaria del potere troverà autorevolezza e capacità di ascolto. Chi propone individualismo troverà partecipazione e condivisione.